22 gennaio 2014. Muore Carlo Mazzacurati, regista nato a Padova nel 1956. Il suo primo lungometraggio è Notte italiana, del 1987, che gli dà il nastro d'argento per la miglior regia all'esordio. La sua cifra è una fusione di generi, dalla riflessione sociale al giallo, sempre da un punto di vista ironico e originale. Fra le sue opere principali, Vesna va veloce, del 1996. La lingua del santo, del 2000. Ma soprattutto il toro, leone d'argento alla mostra di Venezia, del 1994. Più una variegata serie di documentari. A pochi mesi dalla morte esce postumo il suo ultimo film, La sedia della felicità, che ottiene il nastro d'argento 2014.